Mamma mia che caldo, non lo so dove va dentro. Lo sapevo io, lo sapevo che oggi non devo fare cose rischiose. Ah sì, perché prendere l'ascensore è una cosa rischiosa? Il venerdì 13 agosto sì, e comunque è tutta colpa tua. Ah sì? E perché? Perché ieri, che era un bel giovedì 12 d'agosto, tu non potevi. Quindi abbiamo spostato ad oggi ed eccola là. No, no, guarda che quello che non poteva ieri eri tu, eh? Avevi la partitina di burraco e il circolo canottieri Lazio. Senti, non rigiriamo la frittata che non è aria, eh? Che qui non c'è neanche il ricircolo dell'aria. Quanto si può rimanere chiusi qua dentro? Eh, piantala di fare il ragazzino, fai l'uomo. All'uomo? Perché prima a letto, che ho fatto? Capirai. Non ho capito, che hai detto? Capirai, ho detto capirai. No, te pensassi di aver fatto chissà che, è stata una robetta. Dieci minuti, scarzi. Ah, robetta? Ah, robetta. E allora perché quando stavamo in camera da letto io t'ho legata con la cinghia della seranda e ti frustavo col filo elettrico, tu gridavi mi mandi al manicomio, mi mandi al manicomio? Gridavo per compiacere il tuo lato maschile, ma per mandare al manicomio meci vuole altra roba. Qual è altra roba? Guarda, non mi far diventare volgare, lasciamo perdere, va, che sono una signora. Ah, sei una signora? Ah, tu sei una signora? Ma chi ti credi di essere? La signora Morabito. Ce le vogliamo ricordare le origini della signora Morabito? Quando t'ho conosciuto io, tu facevi la manicure a Corso Trieste, al 12. E allora te, avvocato, te lo sei scordato che prima di incontrare Patrizia avevi lo studio nel sottoscala al preenestino, eh? E che dopo che hai attaccato il cappellone c'hai lo studio ai parioli. Ma parli tu, parli. Ma è roba che vieni dal tuscolano. Quando tu tornavi a casa con la metropolitana scendevi a porta furba. Ma sta coatta. Coa, coatta a me? A te. Tu a me dici coatta? A te, tu lo dico, siamo solo in due. A te lo sto dico. Ma sto capone burino ripulito che non sei altro. Ma sta te, zitta, zocco. Ah, perché non è vero che ti sei fatta mezzo circolo del golf? E tu allora? Che? Che dice che sei andato con la Filippina? Con la Filippina. Con la Filippina. Con la Filippina. Con la Filippina. Beh, con la Filippina. Che c'è di male con la Filippina? Anzi, e che Filippina? Con lei è molto meglio perché quando finiamo di fare all'amore lei rifà il letto, mi sistema il pigiama e poi mi dice grazie, avvocato, grazie. Noi, certo, come il portiere. Meno morevi tradito, sa. Oh, oh, oh. Oh, è finessa. Mi hai messo le mani addosso. Ma io te ti ammazzo sono in un sacco e vantaggio. Luli, luli, modere il linguaggio con me che sono sempre un avvocato. Hai capito, Luli? Io per te non sono più Luli. Io sono Luciana. La signora Luciana Morabito. E allora io per te non sarò più Tato. Da domani chiamami Italo, avvocato Funaro. Ma chi te cerca? Ma chi te vuole proprio? Ma chi te fa? Ma chi te fa? Ti chiedi, ti ha capito? Il mio palmare nuovo, nuovo. Guarda che se si è rotto io ti faccio male. Ti faccio male. E sto terrorizzata. Fermi tutti, ne attacca. Ne attacca? Ne attacca. E che aspetti? Deficiente, chiama il 113, no? Chiamo il 113. Poi sul deficiente... Pronto? Polizia? Sì, qui parla Funaro, avvocato. No, c'è un piccolo problema, una sciocchezza. Siamo rimasti leggermente chiusi in ascensore. Sì, sono leggeri calzi. Le do subito l'indirizzo. Sì, sono leggeri calzi.